Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. In A11 per traffico intenso rallentamenti tra Capannuri e Pisa Nord in direzione Pisa. Sulla FIPILI per lavori rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Mare. E' chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione Mare. Rallentamenti in direzione Livorno tra Livorno Porto e Tirrenia. Sulla Statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!